Dopo la partecipata manifestazione nella capitale, in Molise continuano le polemiche dedicate al delicato tema della sanità, a cominciare dal presidente della regione Donato Toma. Il presidente sembra non ricoprirà il ruolo di commissario ad acta per la sanità. Dopo la sentenza della Corte di Cassazione, nulla di fatto per il governatore, che ha dovuto rinunciare a questa possibilità, nonostante la Suprema Corte gli avesse dato ragione. Il governo, tramite il Ministero della Salute, ha preso una posizione precisa dicendono a gran parte delle regioni, Molise compreso, di modificare il patto per la salute 2019-2020, di vicino approvazione prevista per il 31 dicembre. Intanto, in queste ore, Donato Toma ha chiesto di assumere una decisione sul disegno di legge afferente all'autonomia, che il ministro Boccia ha portato all'attenzione delle regioni e sul quale si è registrata espressione di consenso. Il disegno di legge Boccia pone dei paletti da consentire a tutte le regioni italiane, quelle economicamente forti e quelle economicamente meno forti, di trovare uno spazio di maggiore autonomia nel rispetto dei livelli essenziali di prestazione attinenti l'istruzione, la salute, l'assistenza sociale, la mobilità e il trasporto, che devono essere garantiti equamente su tutto il territorio nazionale.